Scendono in piazza gli agricoltori della Coldiretti per dire stop alla cimice killer dei campi che arriva dalla Cina. Migliaia gli imprenditori provenienti da tutte le regioni d'Italia e anche dalle due province di Comelecco che con i loro trattori si mobiliteranno dopodomani, mercoledì 29 gennaio a Verona, in occasione dell'apertura della Fiera Agricola, la più grande manifestazione dedicata al settore in Italia, dove sono attesi esponenti delle istituzioni europee, nazionali e regionali. Si tratta della prima manifestazione degli agricoltori italiani contro l'invasione di insetti portati in Italia dai cambiamenti climatici e dai ritardi nella prevenzione e nei controlli da parte dell'Unione Europea. L'insetto arrivato dall'Oriente fa sapere la Coldiretti colpisce oltre 300 diversi vegetali e sta mettendo in ginocchio interi settori produttivi senza che siano state attivate misure di sostegno comunitarie adeguate a fronteggiare una vera calamità naturale. Nella giornata di mercoledì sarà dunque diffuso il primo studio Coldiretti sulla strage aliena nelle campagne italiane, illustrato dal presidente nazionale Ettore Prandini alla presenza del ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova, dal presidente della regione Veneto Luca Zaia, gli assessori all'agricoltura delle regioni interessate e dei sindaci dei comuni colpiti, ma anche di ricercatori impegnati nella lotta al pericoloso parassita.